Salve a tutti ragazzi, mi ho trattato in questo nuovissimo video di Seb e gli Animali Beh, in questo momento vi state chiedendo chi sono io Beh, per il momento non vi posso dire niente, però vi posso dire che con sotto a questo video troverete nella descrizione il link del mio canale YouTube Quindi andatemi a seguire e lasciate like a questo video Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, allora oggi in questo nuovo video siamo in compagnia di Shark-Basso2010 Allora, qui davanti a noi abbiamo il suo animale Saylo, un papagallo inseparabile Un piccolo inseparabile Allora Paolo, raccontaci di Saylo Allora, con i tre mesi che vive qua con me, fa un casino, voglio non dire perché, guarda, fa un casino che è proprio la notte Tu cosa fai? Precipisci che tanto non puoi dormire, quindi devi dormire il giorno, ma anche il giorno non puoi dormire Quindi praticamente fa un casino che non osate immaginare, cioè non potete manco immaginare Poi Madonna, io da tre mesi con me, come ho detto è un papagallo Veramente bravissimo e bellissimo Come ho detto, Saylo è inseparabile, non ancora adulto Infatti ha ancora qualche piuma dalla nascita, ma per fortuna le sta cambiando È uno solo, è una gabbiammella ampia Anche qua il solito pastino per papagalli separabili che gli serve al colore delle penne Che non so, molti di voi magari l'hanno Qua il cibo è quasi finito, però per fortuna non lo so, non lo so, ma ce n'è abbastanza Ho due beverini, per quel cauzione magari per qualche giorno non ci sono E quindi almeno ho due beverini Tre mangiatoie e una mangiatoia con pastino, come ho detto Poi Vedete che casino Per montare la gabbia, poi per cambiare la ventiera Si deve sganciare questa parte Si deve sganciare La parte si aprirà Sotto c'è una retina così il papagallo non scappa Non scappa senza che cosa E là ci sono delle piume su queste Benissimo Perfetto, poi si chiude Se va a togliere le sue piume Lo togliamo tutto E ecco Silo Allora, ciao a tutti ragazzi Ci becchiamo in un prossimo video Mettete like e iscrivetevi E nel link di questo video c'è il link del mio canale YouTube Quindi andate Cliccate quel link Muovetevi Ciao a tutti ragazzi